È stato il primo incontro con i giudici, ero veramente tanto, 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 tanto teso, è tantissimo. Vai, vai, vai. E non c'è chiesa per pregare che sulla terra non ci sono santi, gli uomini semplici sono tanti. Però andano bene. A me sembra che tu sei l'unico che oggi ci ha fatto vedere un po' di, come dire, tormento. Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare. Quel che abbiamo già vissuto. Grazie. 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 Grazie.